Un nuovo filone di indagine sulla tragedia dell'hotel Rigopiano in cui sono morte 29 persone. Il fascicolo con i sette nuovi avvisi di garanzia è stato aperto dalla Procura della Repubblica di Pescara. Le accuse riguardano il presunto occultamento del brogliaccio delle segnalazioni arrivate il 18 gennaio del 2017 alla squadra mobile di Pescara. Occultamento che sarebbe servito a nascondere la chiamata fatta alle 11.38 dal cameriere del resort Gabriele D'Angelo al centro di coordinamento dei soccorsi. L'indagine è guidata dal procuratore capo della Repubblica Massimiliano Serpi e dal sostituto procuratore Andrea Papalia con i carabinieri forestali di Pescara coordinati dal tenente colonnello Anna Maria Angelozzi. Tra gli indagati figura l'ex prefetto Francesco Provolo e i due vice prefetti distaccati Salvatore Angeri e Sergio Mazze. Con loro i dirigenti Ida De Cesaris, Giancarlo Verzella, Giulia Pontrandolfo e Daniela Acquaviva. I carabinieri indagano già da un anno dopo l'acquisizione di una conversazione inedita avvenuta tra un militare dell'arma della sala operativa di Pescara e la funzionaria della prefettura Daniela Acquaviva, balzata a suo tempo alla ribalta delle cronache per la telefonata nella quale proferiva la frase «La mamma degli imbecilli è sempre incinta» e in cui diceva al carabiniere che l'intervento su Rigopiano era stato fatto in mattinata riferendosi proprio alla telefonata che era arrivata da Gabriele D'Angelo. E' ipotizzabile appunto che il cameriere abbia chiesto l'evacuazione della struttura dopo le scosse di terremoto che avevano interessato la zona di Rigopiano.